ciao ciao a tutti un bacio a tutti altro video alie espresse ma vi dirò sin da ora che saranno tutti spezzoni di video perché tanti prodotti mi devono arrivare siccome alcuni mi servono devo fare il video per forza così che poi li metto in uso in auge allora adesso vi faccio vedere quello che mi è arrivato oggi è arrivato questo astuccio sapete io sono amante degli astucci beauty case pochettina mi piacciono tanto questo è un astuccino pagato pochi centesimi è di tela di tessuto come fosse un po peruviano no quelle le casacche e mi piace moltissimo perché è fatto veramente molto bene dentro e c'è una foderina mezza plastificata molto rigida però fuori come contenuto da stuccio a me piace molto è fatto bene ovviamente ancora era chiuso sigillato non so se no questo deve stare dentro e allora anche un po stortarello è un posto starello è che se questo lo tiro fuori mi si vede il buco quindi questo deve stare dentro però è stortarello staccino vabbè non importa mi piacevano i colori mi piaceva questo fucsia questa trama del fucsia sembra rosso però è fucsia e mi piaceva molto quindi l'ho preso e va a praticamente a riempire la mia libreria qui accanto con tutti gli astucci mi piacciono poi col fatto che questi costano proprio pochi centesimi ancora di più mi vien voglia di prenderli te invoglia proprio a prenderli allora un'altra cosa che ho comprato sono questi rivetti tutti colorati solo che sono grandi stavo vedendo che sono grandicelli quindi poi devo regolarmi anche col buco che vado a fare e questi sono quelli delle midori no mi piacevano così colorati sdrammatizzavano un attimino mi piacevano solo che vedo sono molto grandi vabbè ce li facciamo andar bene lo stesso non c'è nessun problema devo vedere se poi con la rivetta drice riesco a chiuderli perché questi rispetto a quello che uso io sono più grandi però vi assicuro che sono molto carini sono proprio fatti bene nei colori mi piacciono quindi questo qui pagato pochi centesimi anche questo poi una cosa che volevo farvi vedere è questo paio di orecchini ma che io trovo essere deliziosi pagati solo 18 centesimi ecco se proprio volete spendere veramente poco io vi consiglio di andare nel reparto orecchini ci sono certe cose da far rimanere proprio a bocca aperta guardate quanto sono bellini questi orecchini qua io li ho semplicemente appoggiati non li ho provati ma fanno un effetto sono veramente molto delicati poi con questa stellina specchiata no ancora di più ancora di più quindi mi è piaciuto veramente tanto mi sono piaciuti veramente tanto quindi questa è una di quelle cose che volevo indossare ma fino a che non facevo il video non lo potevo fare mi dispiaceva quindi è per questo che farò tutti gli spezzoni poi un'altra cosa che mi è arrivata è questa pagata 48 centesimi lo ricordo è praticamente da allora questa parte calamitata e si mette sulla base della macchina da cucire che è ferro così rimane calamitato e serve per andare dritti o fare il tondo ora devo essere sincera me lo deve spiegare all'amica mia quindi devo aspettare che paola me lo spieghi paola tesoro se vedi questo video devi spiegare come funziona perché io l'ho preso ma perché lei mi ha detto ora prendilo prendilo vedi allora vedete qua serve per rimanere dritti non fa spostare capito perché questo essendo calamitato si attacca perfettamente alla base della macchina e poi si cuce ma perché sto facendo sempre zoom 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 ok e poi posizionato in altro modo aiuta a fare le curve ecco ma io le curve non mi interessava mi interessava soprattutto andare andare giusto quindi questo io l'ho preso e speriamo che possa andare bene questo è una piccola a una piccola piccolo assaggio del video agli espressi mi devono arrivare tante altre cose ecco questo penso proprio di aver terminato la mia raccolta agli espresse purtroppo ho aperto parecchie dispute e quindi non so adesso se mi arriveranno altri pacchetti oppure no però vi faccio vedere questo anche perché mi ricordo che avevo girato un pezzo di video convinta che mi dovessero arrivare chissà che invece poi alla fine mi sono ridotta a questo vabbè pazienza mi devono arrivare questo senza disputa altre due tre cose ma non penso di farci il video anche perché sono due volte che mi allungano la protezione no l'estensione dei giorni e quindi sono passata da 15 a 45 quindi penso che a settembre io dico quindi dico vabbè facciamo il video così poi utilizzo le cose allora la prima cosa che questa mi è arrivata oggi sono questa serie di due quattro sei otto dieci sì comunque dovevano essere miste non sono miste quando andiamo a scegliere le cose quando è miste sembra misto sulla foto c'era blu rosso verde arancione giallo di tutti i colori è questo qui l'arancione sì tutto bellissimo però più non a sto punto quindi quando si tratta di misti non so fino a che punto rispettano l'essere misti come colori comunque questo è 22 centimetri 20 o 22 centimetri questi qua solo che arancione vabbè un altro pacchetto ecco questo l'avevo preso per giulia per pochi centesimi ma veramente un amore vi faccio vedere adesso indossato guardate che splendore allora lo indosso è è love mi tiro su è scritto love solo che c'è sotto lo metto a fuoco perché c'è il tavolo sotto mannaggia come ve lo faccio vedere forse così metti a fuoco e metti a fuoco ecco vedete l'avete visto per una frazione di secondo ecco love questo qui l'ho preso per giulia molto carino centesimi proprio e quindi questo dopo io lo vado a consegnare poi un'altra cosa che mi è arrivata o non sono più eccoci qua un'altra cosa che mi è arrivata è questo qua per me pare 80 centesimi una cosa del genere un pezzo di stoffa questi sono sempre 50 per 50 cose del genere vedete quanto so carino questo non è 50 per 50 è di meno guardate che bella questa stoffa allora sono tessuti molto leggeri e questi sono proprio tessuti molto leggeri però intanto mi è arrivata la stoffa guardate che spettacolo aspettavo per fare delle prove e adesso guardate che bella questa questa è bellissima me ne sono arrivate altre allora poi mi è arrivata la penna di rilakkuma questa è piccola aspetta che vi prendo una penna per farvi vedere quanto è piccola possibilmente una bic ecco questa qui vedete guardate quanto è piccolina questa è una bic questa è una bic guardate quanto è piccolina sembra proprio quelle penne per pocket ma veramente allora io l'avevo presa perché era celeste e rosa mi piaceva tantissimo era random e speravo proprio che mi arrivasse questa perché questa è proprio caratteristica del rilakkuma mi piaceva veramente tanto quindi questa qui sono stata contenta purtroppo quando dice random e io dico sempre ecco mi arriva sempre quello più brutto e invece no mi è arrivato molto carino questo mi piace poi avevo ordinato per 90 centesimi questo set di pennelli da trucco mi piaceva tanto io ho sempre utilizzato questo questo qui per quelle poche volte che mi metto il rimmel comunque ho sempre utilizzato questo mi siano rotte delle setoline qui dopo tanti anni quindi praticamente vedendolo qui insomma non avevo nemmeno questa urgenza e visto che su alie espresse per pochi centesimi le ho presi ovviamente il manico in plastica e le setole sono morbide 90 centesimi e l'ho preso non dureranno niente lo so ma comunque l'ho preso per poco per così poco prezzo poi eccoci qua un altro tessuto questo sa molto di federa lenzuolo fresco estivo ecco quelle proprio quei tessuti leggeri leggeri è questo qui questo tessuto per i fio con i cuori e per ultimo e poi niente perché avevo ordinato solo questi quest'altro che uno spettacolo troppo carino solo che questo veramente picco questo è proprio un fazzoletto di roba mamma mia questo è proprio un fazzolettino questo proprio un fazzolettino proprio però comunque questo è molto carino queste sono le cose che mi sono arrivate dagli espresse mi dovrebbero arrivare una serie da 20 centimetri o 22 o 20 o 22 mi sembra 22 bianco e una serie rosa quindi adesso non so quando mi arriveranno forse l'anno del mai sono contenta perché adesso incomincio a fare un po di prove per vedere questi mi piacciono le mie i miei ciaffetti vi mando un bacio grazie per essere stati con me ciao